ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale oggi parliamo di dylan dog con questo albo che si intitola la mummia il numero 55 della serie regolare continua la mia avventura nella rilettura di dylan dog come gli altri personaggi bonelli e ogni tanto ne parlo sul canale e niente vediamo quest'albo allora scritto da claudio chiaverrotti con i disegni di pietro dall'agnol i lettering di piero ravaioli e la copertina di angelo stano ovviamente ideazione e supervisione al tutto del maestro tiziano sclavi allora la mummia è un albo che mi ha lasciato un po così non mi ha fatto gridare all'impazzata nel senso non mi è piaciuto moltissimo tra quelli letti finora forse è quello che mi è piaciuto di meno anche se il tema di base ovvero l'archeologia egiziana mi affascina l'archeologia in generale mi affascina e quindi questo albo ha come base proprio questa struttura egittologica e ovviamente con chiave di landoghiana le prime pagine sono pertamente ambientate in questa visione appunto no del mondo egizio e poi si arriverà ai giorni nostri soprattutto ai tempi in cui la storia è ambientata nel 1991 per incominciare a raccontare le vicestitudini e del perché questo prologo all'interno poi della storia dell'indagatore dell'incubo pochi personaggi e nel senso pochi comunque almeno 4 5 personaggi comprimari che gireranno intorno a di landogh e a bloc e a graucio per arrivare poi a delle conclusioni che non sono prevedibili ma con un pizzico di intuizione in più che io forse non ho avuto ci si arriverebbe a capire come si svolge la storia e soprattutto chi è nel finale che ha questo colpo di scena c'è qualche tocco di visione splatter da un punto di vista grafico ma niente di entusiasmante il fumetto comunque cammina su una linea molto equilibrata secondo me ci sono molti testi che potrebbero che potevano benissimo essere un po più accorciati per dare più respiro forse a dei momenti più salienti però è chiaro il mio punto di vista comunque resta un godibile albo nel senso che mi ha accompagnato in questa lettura in maniera piacevole l'ho dovuto leggere in due momenti separati proprio perché a un certo punto mi aveva un po anche stancato però devo dire che nella totalità della sua visione è godibile a parte gli scherzi i disegni di pietro dell'agnol non sono i miei preferiti ma comunque il tratto di dylan dog è raffigurabile e ben conoscibile spigoloso rispetto ad altri stili che conosciamo e che preferisco però niente male niente male ovviamente dylan va sempre a caccia anche quando la donna non vuole cerca comunque di arrivare un attimo prima si prende uno schiaffo perché rifiutato l'attimo dopo comunque la tizia ci casca e va a letto con dylan vabbè questo è un classico e poi un'altra cosa che non mi è piaciuta è nella sceneggiatura in questo caso di chiaverotti è la banalità di alcune soluzioni narrative che sono abbastanza scontate ecco questa è una cosa che non mi piace perché oggi ovviamente considerate che lo leggo oggi rispetto 91 quindi i tempi cambiano ma sono delle soluzioni perso che banalotte ecco forse oggi non ci sarebbero più però amen parliamo di questo albo di questo albo vi parlo scusate il gioco di parole comunque fatemi sapere se voi l'avete letto questa è una pillola appunto di dylan dog della serie regolare che sto leggendo e man mano cerco di portare tutto dylan numero 55 la mummia eccolo qua fatemi sapere cosa ne pensate a presto al prossimo video con dylan dog ciao a tutti